per quelli di voi che si devono alzare molto presto che devono essere molto attivi o magari quelli che vanno a letto molto tardi e vogliono scaricarsi dalle ultime energie prima di andare a letto ecco un'altra tecnica alzati alle 5 prima del sorgere del sole e per mezz'ora abbandonati al canto ai tuoi suoni e a lamenti gemiti non occorre che i suoni abbiano un senso devono essere viscerali spontanei non avere un significato è sufficiente che ti divertano il senso è questo lasciati ondeggiare lascia che sia una lode per il sole che sorge per cui smetti solo quando il sole è sorto questo manterrà dentro di te un certo ritmo per l'intera giornata fin dal mattino starai in sintonia e vedrai che il giorno avrà una qualità diversa sarei più amorevole più attento più compassionevole più amichevole meno violento meno collerico meno ambizioso meno egoista